La ceremonia protocolare di premiazione del lancio del disco uomo. La ceremonia protocolare di un lancio del disco uomo. Le medaglie verranno consegnate dal signor Giuseppe Matropasqua, membro del comitato organizzatore della Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Le medaglie saranno consegnate dal Giuseppe Matropasqua, membro dell'organizzazione dell'Organizzazione Internazionale Amato Atletico. Le medaglie saranno consegnate dal signor Giuseppe Matropasqua, membro del comitato organizzatore della Federazione Internazionale di Atletismo Amato. Primo e campione del mondo. First and world champion, premier e champion del mondo. Jürgen Schult, Repubblica Democratica Tedesca. A world record holder, and now a first major title for Jürgen Schult. A new championship best as well. Second and silver medallist, deuxième e medaglie d'argent. John Powell, Stati Uniti d'America. Four is a house of this round. Third and bronze medallist, troisième e medaglie d'argent. Luis Delis, Cuba. Well, Luis Delis left it until the last round and crept ahead of the Olympic champion to take bronze. All right. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.